Questa è l'ultima pezza, lontano da te. L'ultima pezza, lontano da te. Lontano da te, lontano da te. 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 ragazzi ce la faceva sudare, ogni sei mese gli usciva, però quando usciva le ricette di Valerio Pallomante, voi voi le aveva fatte, provate a fare le ricette di Valerio Pallomante, la rende a besti, la posta del Mago Trippone, il mamma che sito, voi voi ve lo sapeva, quello era avanti 30 anni, la recensiva i siti di internet 20 anni fa, ragazzi, questa è l'arte, un grande il Mago Trippone, se non ci fosse bisognava inventarlo, Mago rifaccio una azienda, fatta per venire, ma come se facevano più facile una volta, tu seresti un grande.